E i lavoratori di una comunità Sikh dell'Agro Pontino hanno deciso di raccontare le loro condizioni in un docu musical che arriverà nel cinema il 7 febbraio. Margherita Ferrandino Raccontare la realtà con un linguaggio diverso, una forma artistica innovativa, lontano dalla retorica, vicino alla tradizione di una comunità Sikh che da anni vive nelle campagne dell'Agro Pontino. Lavoratori nei campi sfruttati dal capolarato, costretti ad assumere sostanze dopanti per reggere un lavoro disumano e malpagato, spesso con buste paghe fasulle e permessi di soggiorno mai rinnovati. Promesse crudeli di datori di lavoro capaci solo di esercitare il potere senza rispettare i diritti. The Harvest è un docu musical che racconta una giornata dei campi dall'alba alla preghiera del tramonto nel tempo della comunità e della speranza di un cambiamento di una sorte migliore affidata ad un film. Diretto da Andrea Paco Mariani è realizzato grazie al portale che sostiene la circolazione di opere creative di autori indipendenti in tutta Europa e che porterà The Harvest al cinema per raccontare la quotidiana e accettabile condizione di sfruttamento di migliaia di lavoratori che sostengono oggi la produzione agroalimentare eccellenza italiana nel mondo. Grazie a tutti!